Buonasera a tutti e bentornati a Primo Cittadino, programma che questa sera prosegue con il sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ricordo ai nostri telespettatori che non dovete telefonare al numero di cellulare, lì dovete inviarci messaggi con Whatsapp. Potete però telefonare, quindi parlare direttamente con il sindaco, chiamandolo 0721 86 14 33. Abbiamo visto Massimo nel corso del telegiornale anche la sua risposta per quanto riguarda il convitto ex convitto Vittoria Colonna. Dunque siamo vicini a una svolta? Beh intanto vorrei dire che noi in questi mesi non siamo stati mani nelle mani, ma vi è stato un lavoro anche seguendo le segnalazioni dei residenti e anche dei cittadini con i quali ci siamo anche sentiti anche personalmente. Ci sono stati diversi sopralluoghi e controlli da parte delle forze dell'ordine e della Polizia Municipale a cui va un ringraziamento perché hanno fatto veramente un buon lavoro per quello che riguarda il decoro e ovviamente per quello che riguarda le persone che si sono infiltrate all'interno. Su questo sono stati già degli interventi, ma le notizie buone sono che intanto abbiamo avuto una riunione con la proprietà Inbimit che è il fondo di investimento di proprietà di IMSS nato proprio per valorizzare e fare investimenti su queste strutture. Sono sette strutture tra cui c'è il Vittoria Colonna. Eccolo qua. Allora la prima notizia è quella che nei prossimi giorni, nel mese di marzo e aprile, faranno tutte le indagini sulla stabilità, tutte quelle informazioni che serviranno. Poi verrà fatta la bonifica, quindi entro giugno verrà fatta la bonifica, portato via tutto il materiale all'interno, immobilio se così lo possiamo chiamare e verranno sigillate tutte le possibilità di accesso, finestre, ovviamente lasciando la possibilità di entrare per chi deve farlo, quindi la porta d'accesso principale. Detto questo, l'altra bella notizia, buona notizia, ovviamente non nel breve periodo, c'è già un progetto di fattibilità livello 1, che è quello proprio iniziale, su il destino di questa struttura. Finiti i lavori di analisi, come dicevo, di stabilità, tutte quelle verifiche hanno fatte sull'immobile, che sono utili per fare l'altro progetto di fattibilità tecnico-economica che verrà affidata nel secondo semestre. Finito quello, si hanno anche contezze di quelli che saranno gli importi che occorreranno, ma qui si parla di investimenti di circa 30 milioni, e la decisione dell'investimento sono investimenti importanti che guardano un po' a quelle che sono i fabbisogni del futuro, considerando che la popolazione tende ad invecchiare. Si parla di Silver House, significa quell'attenzione verso quelle persone, ovviamente autosufficienti, che preferiscono avere degli alloggi dove c'è una serie di servizi e di compagnie, se così possiamo chiamare. Saranno 87 alloggi nella previsione, ma sarà uno spazio aperto anche alla cittadinanza, dove saranno delle attività. Quindi un investimento importante che darà valore a quell'area e poi ricordiamolo, noi stiamo programmando anche la riqualificazione, la parte di fronte, e cioè l'ex AGIP, che adesso vedete stanno lavorando, ma stanno finendo le ultime opere di bonifica, poi verranno consegnati. Noi in realtà stiamo già, l'assessore sta già lavorando, penso che è arrivata quasi a buon fine, nel senso che il progetto è pronto, adesso lo dovrà presentare in commissione, poi faremo la gara nel mese di marzo per poi partire con i lavori. Siamo curiosi di vederlo. Sarà un bel progetto, io l'ho visto, quindi sarà un bel progetto. Immagino. Dunque, abbiamo una marea di messaggi. Ci hanno scritto diverse persone anche da terre roveresche. Viene leggo uno. Viste le dichiarazioni che ha rilasciato in merito alla volontà di confrontarsi direttamente nel territorio sul tema del biodigestore di terre roveresche, parteciperà Sindaco alla manifestazione del prossimo 5 marzo, alla quale è già stato formalmente invitato anche dal Comitato a difesa del territorio? Noi l'aspettiamo. Che cosa risponde? Adesso so che è arrivato, mi hanno detto in segreteria che era arrivato questo invito, adesso voglio capire che iniziativa è, ma non ho problemi a partecipare. Io quando posso confrontarmi lo faccio molto volentieri, purché si faccia sempre nella verità. Le chiedono informazioni sulla pulizia del fiume Metauro. Lei ha notizie in merito? Quando può essere effettuata? Adesso ho aggiornamenti ulteriori a quelli ultimi e non ne ho. Adesso magari domani verifico per gli ulteriori interventi. Ci sono arrivati tanti messaggi anche nel corso della giornata. Posso aggiornare su quelli dell'Arzilla che sono già stati programmati, il progetto per l'intervento e quindi partiranno penso nel mese di marzo. Perfetto. Allora partiamo dalla scalinata. Cristiana chiedo il tuo aiuto perché quando li mandate nel pomeriggio noi riusciamo poi anche, meglio se il mattino, a preparare foto e video. Partiamo da questa scalinata. Il telespettatore dice, il signor Giuseppe, che vuole denunciare lo stato in cui versa questa scalinata di via Gentile da Fabriano che porta a Viale Colombo, necessita urgentemente di manutenzione, riqualificazione e anche dell'illuminazione. Infatti la vediamo anche nella versione notturna dove mancano dei punti luce. È possibile fare qualcosa? Sì, penso mi abbia letto nel pensiero il telespettatore che ha inviato questa segnalazione perché già in passato una coppia mi aveva sollevato dal problema della luminosità su quella scala. Avevo chiesto agli uffici di fare un sopralluogo, di verificare. Gli ho chiesto proprio anche di verificare la stabilità e la situazione di sicurezza di questa scala perché effettivamente è un po' che non vado, mi ero un po' preoccupato e vedendo anche l'immagine è necessario intervenire. Poi ovviamente quella è una scala riferita a tanti anni fa, fatte con le misure di sicurezza che venivano chieste allora. Oggi una scala così non verrebbe mai autorizzata, immagino. Per cui non posso rispondere in questo momento ma sicuramente quella scala ha necessità di intervento sia per la luminosità sia per la messa in sicurezza per cui chiederò adesso l'esito del sopralluogo dell'ufficio tecnico a cui ho chiesto di andare a verificare. Poi in prospettiva ovviamente non sono lavori che posso garantire in pochissimo tempo perché in questo momento, come ho già avuto modo di dire in altre circostanze, ci sono 50 milioni di cantieri che sono partiti, che stanno partendo quindi le strutture sono veramente tutte impegnate su questi lavori. Anche una piccola cosa richiede il tempo. Però su questo avevo già chiesto la settimana scorsa di fare un sopralluogo, non ho ancora avuto il riscontro e domani sarà mia cura verificarlo. Chiedono informazioni anche sull'esito invece dei rilievi che erano stati eseguiti a Bellocchi per dopo l'incendio alla profica. Quelli non ci sono stati comunicati, o perlomeno al sindaco non sono stati comunicati sia che con l'assessore, con l'ambiente, sì. Chi ha seguito la vicenda. Quando verrà messo in sicurezza il ponticello in legno di Bellocchi collegato alla pista acichilabile? Sì, è quasi ultimato il lavoro di progettazione, devono essere affidati i lavori, però in itinere, adesso ce l'ho qui, fra l'altro se lo ritrovo perché sono un lunghissimo elenco, l'avevo visto anche prima, Ponte Bellocchi, progetto in corso, verrà consegnato la prossima settimana. Perfetto. Il progetto, poi c'è il tema dell'affidamento dei lavori, quindi in un paio di mesi penso verrà fatto. Ok, altri messaggi. Vorrei chiedere al sindaco notizie su due progetti di grande rilievo per il futuro della città, progetti di cui da tempo non si parla. Il teatro romano nell'ex Finlanda di Via Diemiscis, se ci sono le condizioni per aprire quest'area anche alle visite del pubblico. Sì, allora, quello è stato uno dei nostri punti fermi, tant'è che abbiamo acquistato l'ex Finlanda, 2000 metri quadrati della vecchia fabbrica, perché sotto c'è il teatro romano. La nostra intenzione è quella di lasciare per fine mandato un concept, cioè quello che deve essere l'idea progettuale, perché ovviamente di più non saremmo in grado di fare, e l'idea era quella del museo nel museo, nel senso di consentire delle visite prima della programmazione e progettazione, che avrà tempi molto lunghi. Solo che per consentire questo c'è la necessità di fare alcuni interventi di messa in sicurezza, e proprio in queste ore, la delega sul teatro romano, c'è la consigliere Marchigiani, il quale ringrazio che ha fatto un bel lavoro, l'ha seguita sia da quando era vice sindaco, sia oggi in questa fase, e dovremmo fare il punto. L'obiettivo, ripeto, era quello di poter consentire a gruppi limitati e regolati la visita. Il tema è che qui ogni settimana ti chiedono qualche risorsa in più, le risorse che vengono richieste anche per queste cose sono sempre molte, quindi vediamo dove riusciamo ad arrivare. Però l'obiettivo è quello di consentire, almeno per l'estate, qualche visita. Lo speriamo. La fabbrica del Carnevale, invece, nell'ex Sant'Arcangelo, a che punto siamo? Beh, io su questo sono molto arrabbiato, ed è un paese che purtroppo, se non si dà veramente una riforma e riesce a snellire le cose, si paralizza. Questa è una storia infinita, però ve la devo raccontare. Allora, noi facciamo la gara, avremmo già dovuto finire, aver finito i lavori, avremmo dovuto già averli rendicontati. Abbiamo rischiato anche di perdere un paio di milioni di risorse. Fortunatamente qui devo ringraziare la Regione che ci ha dato la possibilità di spostare quei fondi europei su altri fondi per non perderli. Bene, noi abbiamo fatto la gara, abbiamo affidato i lavori alla ditta che aveva vinto. La seconda, con il suo diritto, lo rispettiamo, fa ricorso. Mesi e mesi per questo ricorso, perché discutevano soltanto su un piccolo punto di tutta la valutazione della progettazione. La Corte d'Appello dà ragione ai ricorrenti, ovviamente si riappellano, vanno in Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dà ragione, dopo distanza di un anno, al Comune di Fano. Quindi il Consiglio di Stato ha detto che la procedura adottata dal Comune era quella giusta. Bene, oggi avremmo dovuto riprendere i lavori, ma c'è un ulteriore ricorso per revocazione sentenza. Cosa significa? Queste sono situazioni straordinarie dove il ricorrente sostiene che ci sia un supposto errore da parte del giudice giudicante del Consiglio di Stato, quando questo sarebbe l'ultimo giudizio, quello del Consiglio di Stato. Il rischio è che ci fanno perdere altri mesi di tempo e questo progetto ormai mi sono messo l'anima in pace e mi dispiace perché rivendico anche il merito di quel progetto, insieme anche a chi ci ha lavorato, ma per aver partecipato, per aver trovato le risorse. Il rischio è che rimanga ancora bloccato, per cui adesso verifichiamo quelle che possono essere le tempistiche oppure faremo delle forzature, faremo partire i lavori lo stesso, dobbiamo valutare con i nostri legali. Però è come dicevo, ho il rammarico che ormai mi sono messo l'anima in pace e che non potrò inaugurare questa opera che avrebbe portato valore alla nostra città, lo lascio in eredità al sindaco che verrà dopo, però questo è il sistema Italia, questa è la giustizia italiana per quello che riguarda quella civile, quella amministrativa, con il rischio di bloccare come il caso Iti a Fano, penso ci siano tantissimi casi in Italia, immaginate cosa vuol dire anche in termini economici, in termini di sviluppo del nostro Paese, quando in realtà per una situazione come quella bastava una giornata di attenzione da parte di chi deve fare l'istruttoria e valutare in un senso o nell'altro. Allora, andiamo avanti. Dopo l'incontro del 9 gennaio da Metauriglia ci chiedono per quando ha fissato il nuovo incontro con i cittadini e i bagnini per discutere sul problema delle scogliera. A fine gennaio ci sono stati altri grossi problemi, anche qui ci hanno inviato diverse foto per ricordare e documentare quello che ha provocato la mareggiata, sempre da Metauriglia ci chiedono quando verrà spostata la scogliera, ma credo che non ci siano progetti di spostamento. No, c'è il progetto, allora, qui abbiamo già realizzato la prima tranche di 4 milioni nella prima parte di Metauriglia. Ci sono altre risorse, c'è un nuovo progetto che è stato finanziato e quindi adesso faremo la stessa procedura che abbiamo adottato per il primo intervento, per cui si realizzerà anche questo. Per l'incontro io non ho problemi, ovviamente compatibili con le disponibilità di tempo, quando sono sempre disponibile, adesso questi giorni sono un po' impegnato, devo fare anche alcune missioni a Roma, poi sono fuori qualche giorno la settimana prossima per un'altra missione, però va concordata, avevo detto anche ad alcuni che mi avevano chiamato, saremmo risentiti anche con l'associazione che organizza, ovviamente poi con me devono esserci anche i tecnici, perché ovviamente ci sono non solo aspetti di carattere politico, amministrativo, ma anche di carattere tecnico. A Sassoni invece, a quando è la gara d'appalto per i lavori dell'ultima scogliera? Adesso dobbiamo approvare il bilancio che va la prima settimana, ai primi giorni, la prima decada di marzo e si approverà con l'immediata sicurità e subito dopo, dal giorno dopo, l'ufficio gara appalti ha già pianificato tutti i passi che saranno regolati e seguiti giorno per giorno, abbiamo fatto proprio le scadenze e abbiamo calcolato anche i tempi che devono stare le manifestazioni, la pubblicità, per cui i lavori inizieranno, adesso mi fate il direggione che non me lo ricordo, però lo faremo. Il Comune adotterà la cessione di credito riguardante i superbonus? La mia colpa, ci scrive il telespettatore, di aver creduto nelle promesse di un ministro rappresentante dello Stato. Ho una casa unifamiliare, sono pensionata e non ho la capienza fiscale. Il Comune di Fano che cosa farà? Peso lo si è già attivato? Sì, guardi, proprio domattina che ho una giunta ho chiesto anche ragione del cao per capire gli effetti e le capacità che noi abbiamo perché ovviamente è una misura che mi piacerebbe adottare perché penso sia utile nei confronti, si va incontro alle esigenze dei cittadini che come dice questo signore che ha scritto si è fidato, purtroppo molte volte nel nostro Paese queste cose capitano e si rischia di lasciare le persone col cerino in mano e chi ha una responsabilità dovrebbe evitare che questo avvenga e se è possibile lo vorremmo fare anche noi, perché ripeto domani mattina sarà un elemento di discussione anche con i nostri tecnici. Distinto mi vorrebbe dire che sì, però devo farlo con condizione di causa e con la capacità di poterlo fare. Perfetto. Caro Sindaco, via da Fabriano è un disastro, nessuno rispetta i 30 km orari ma è un vigile che controlla, l'illuminazione vetusta praticamente inutile, i tombini ed infine un incrocio con via della Marina privo di segnaletico orizzontale cancellata da anni ed è anche molto pericoloso. Quindi sia possibile fare anche più una verifica? Penso che l'illuminazione andremo a sostituirla, a migliorarla tutta nella città, città non dico intendo solo nella città di Fano e tutto il suo comprensorio nei suoi quartieri. Vorrei chiedere al Sindaco come mai i cantieri aperti, sono tanti ma vengono aperti e poi si fermano inspiegabilmente ed è un brutto segnale. Mi devo dire che mi sono confrontata su questo anche con l'assessore Brunori, nei giorni scorsi non è che si bloccano, c'è sempre un motivo dietro, ci sono delle problematiche che possono essere collegate ai posti? Sì, guardi, purtroppo non dipendono dall'amministrazione comunale. Qui si parla a tempo del pubblico ma molte volte il privato è più problematico del pubblico. Anche con gli effetti del 110, dei bonus, molte dite hanno tanti lavori, non riescono poi a mantenere impegni con tutti, ritardano, c'è un ritardo degli arrivi dei materiali, poi ovviamente i cantieri quando sono all'aperto sono anche le questioni meteorologiche, è capitato, ultimamente le piogge sono state frequenti e quindi hanno rallentato, in altri sono stati altri problemi sempre causati dalle ditte, però stanno riprendendo tutti quanti e alcuni finiranno a giorni come il parcheggio di via risorgimento, lì devono fare gli ultimi lavori sui tombini e poi finiscono. Il parco, adesso sono ripresi i lavori della pista ciclabile, anche lì dovevano essere consegnati per febbraio. Poi ovviamente ci sono delle penali che pagano queste ditte quando non mantengono i tempi, poi ci saranno ricorsi ovviamente, però ecco, stanno procedendo, devo dire poi l'assessore segue accuratamente giornalmente i cantieri, li sta monitorando, quindi sono fiducioso adesso, poi per carità in alcuni casi possono tardare, penso alla vasca di prima ploggia del Lido. Qualcuno mi ha detto, ma perché non lo state valorizzando? È vero che siete arrivati un po' in ritardo con l'ultimazione dei lavori, però è un problema che esiste da 50 anni, mai nessuno ci ha messo le mani, questa volta l'avete risolto per davvero, perché le ultime piogge torrenziali non c'è stato nessun allagamento. Le volte precedenti, in una situazione senza le vasche e le pompe in funzione, si sarebbe allagato tutto, avremmo dovuto interrompere l'accesso ai veicoli. Ecco, perché faccio questo esempio? Intanto per ricordarlo che il problema è stato risolto. È vero, alcune volte ci sono dei ritardi, ma le opere una volta fatte poi rimangono e aumentano la qualità dei servizi, la qualità della vita o la qualità anche della bellezza della nostra città. Un pesarese poi le chiede, Sindaco Seri, le chiedo, da pesarese come mai sottopasso che collega a Fosso Signore, la pista ciclabile con la satale adriatica, ogni volta che piove si forma uno strato di acqua e fango che dura mesi. Lì è possibile intervenire? Immagino, si riferisca al sottopasso carrabile di Fosso Signore, se lì effettivamente si crea più che fango, sabbia. Va incrementata la pulizia, che ovviamente in estate deve essere più frequente rispetto a quello invernale, però ha ragione, fra l'altro lì siamo al confine, una parte dell'amministrazione comunale, una parte pesarese. Ci stanno arrivando diversi messaggi sulle scogliere a protezione dell'ex pista di Gocarti, via Fratelli Zuccari. Le farete? Erano finanziate già prima delle precedenti? Iniziate, ma penso siano quelli in corso di gara. Ok, abbiamo un'altra foto. Cristiana, se mi dai una mano, facciamo vedere degli aghi di Pino a terra. Ci hanno scritto da via Pizzetti, asete assente da mesi, l'omino con la spazzatrice sempre a pulire via Boccioni, invece sarebbe necessario intervenire anche qui. Quindi via Pizzetti. Via Pizzetti, esatto. Invece in via Ugo Bassi sono iniziati lavori di asfaltatura dalla parte di Casa Archilei, vorrei sapere se verrà asfaltata anche la parte della via che arriva fino alla chiesa San Paolo, perché sono 40 anni che abito in questa strada e non è mai stata asfaltata. Oltre a questa via ci stanno arrivando una marea di messaggi con altre strade, ad esempio anche in Vienaudi, vogliono avere un po' di aggiornamenti sulle asfaltature. Asfaltature, mi dica lei, Sindaco, che di solito riprenderanno verso la primavera? No, sono già ripresi, anche questa mattina alcune strade sono state asfaltate nella zona Pincio, penso via Ugo Bassi stiano iniziando, se non hanno già iniziato. Noi l'abbiamo nell'elenco, adesso mi coglio un po' di sorpresa, penso si riferisca al tratto che supera l'attraversamento della ferrovia Fan Urbino, se non sbaglio, quello che arriva fino verso la chiesa. Dovrebbe esserci tutto, però la mano sul fuoco non ce la metto, bisogna che verifico con l'ufficio, perché nell'elenco che noi abbiamo messo dell'asfaltatura a fare era tutta via Ugo Bassi, non una parte. Però ecco, mi riprometto, non vorrei dare facili illusioni di verificare domani, però mi coglie, se mi è consentito una battuta. La signora o il signore che ha chiamato fa riferimento che via Ugo Bassi è una strada che da 40 anni non viene asfaltata. Noi in questi anni abbiamo asfaltato 120 chilometri che erano quasi tutte da oltre 30 anni non mai asfaltate, perché era da molto che non si asfaltava con regolarità e con questa intensità a cui stiamo dedicando noi in questi anni. Gli ultimi due anni abbiamo un po' rallentato, ma adesso riprendiamo. Stiamo pianificando un nuovo intervento importante di 2 milioni, ma pensiamo di incrementare anche quello. Quelli che avevamo sospeso per l'inverno stanno riprendendo in questi giorni, ovviamente sempre compatibilmente con le temperature e con il clima, che non devono essere troppo freddi, ci deve essere un po' di sole, insomma ci devono essere le condizioni per poterlo fare, però adesso sono ripartiti. Località Metauriglia, ancora non c'è la tabella per indicare la via, quindi segnaletica verticale, è già stato segnalato più volte vicino alla chiesa. Adesso questo mi perdoneranno, queste sono particolari che io non vedo neanche, vanno direttamente agli uffici, se mi indicate qual è la via, così posso farlo. No, proprio si chiama località Metauriglia. La località Metauriglia. Strada del cimitero invece, quella che dal cimitero porta la liscia, c'è asfaltata gli ultimi 50 metri, invece sono stati lasciati così. Sì, quella era stata un'ingenuità di allora, perché doveva essere ristrutturata la casa che c'è in fondo la via per non fare un lavoro inutile, ma la casa non è ancora ristrutturata. Mi sono anche arrabbiato quella volta, perché effettivamente era stata un'ingenuità, quando i lavori devono essere ultimati, non si possono lasciare delle macchie come in quel caso, perché lì si è fatto un bel lavoro, è sotto gli occhi di tutti, sia per la pista ciclabile, messa anche in sicurezza, adesso cercheremo di recuperare quel pezzetto. Poi è sempre complicato recuperare. Prima di andare in pubblicità, Sindaco, le chiedono se è possibile sapere quando partiranno i lavori in piazza Marcolini. Ma è stata già affidata ai lavori, è già fatta la gara, c'è già la ditta, devono solo affidare, quindi devono passare i 30 giorni dal primo affidamento provvisorio, quindi firmare il contratto e iniziare i lavori, per cui siamo pronti. Arrivano tanti messaggi anche dalla zona di Sassonia per lo stadio Ponte Sasso. Sì, poi visto che siamo in piazza, posso anche dire che tra poco arriveranno i progetti esecutivi entro aprile di piazza Andrea Costa, poi anche quella verrà appaltata. Viale Battisti andrà il 23, o se non è già andato la giunta scorsa, altrimenti va il 23 febbraio e quindi andrà a gara per la realizzazione. Quindi come vedete, insomma, adesso questo è l'anno del raccolto di tutto il lavoro, il seminato fatto in questi mesi. Grazie Sindaco, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo qua a leggere i vostri messaggi. Già tra poco. Bentornati in diretta con il Sindaco di Fano Massimo Seri. Partiamo dallo stadio e dall'Alma. Per il Palace e stadio non si poteva accedere ai fondi PNRR, forse perché non c'erano progetti, le chiedono e vorrebbero avere informazioni anche sulla gradinata. Il progetto della gradinata è pronto, quindi c'era già da tempo, c'è, quindi può essere appaltata, c'è tutte le condizioni per poterlo essere fatto. I bandi PNRR, ovviamente, ogni bando si chiama bando perché dà delle caratteristiche a cui partecipare. Noi siamo un comune che ha partecipato a tutti i bandi possibili, forse nella Surgituno, dove c'era stata anche polemica, per 100.000 euro su delle strade, l'unico a cui non avevamo partecipato. Al resto abbiamo partecipato a tutti e molto spesso abbiamo avuto soddisfazioni, pur essendo penalizzati perché non siamo città capoluogo, per questo lo voglio risottolineare. E sto disco sarà un disco rotto, ma continuo a ripeterlo all'infinito, perché è un'ingiustizia cui fanno, come altre città come le nostre, hanno subito quei fondi PNRR. A noi con questa storiella abbiamo avuto una penalità minimo 30-40 milioni, e che non è poco per una realtà come la nostra. Ci sono città con la metà dei nostri abitanti e anche meno, che col fatto di essere città co-capoluogo o capoluogo, hanno avuto diritto accesso esclusivo per tutta una serie di finanziamenti. E' fatta questa premessa, per cui tutti i bandi che davano questa possibilità, noi vi abbiamo partecipato. Ringrazio il Sindaco e la Giunta per come hanno operato nel Verde, nel Parco di Sant'Orso, hanno reso un buon quartiere vivibile a misura di persona. Invece non sono così convinti a Ponte Sasso. Dicono che è una zona con gente tranquilla, ma comincia ad emergere il disagio di non avere all'interno del centro abitato un punto di aggregazione. Purtroppo ci scrivono che non c'è una farmacia, una chiesa, una palestra, non c'è uno sgambatoio per cani, non c'è un piccolo giardino per dare due calci a un pallone senza accompagnare i figli in macchina al centro sociale, che è lontano, quasi un chilometro dal centro abitato. Quando riuscirà il Comune di Fano a darci un po' di vita di quartiere, come sta facendo anche per gli altri quartieri della città? Allora, noi intanto per gli spazi verdi, devo dire che era una scelta, perché io penso alla qualità della vita, come diceva anche questa persona, dipenda anche nei quartieri dove si vive avere tutta una serie di opportunità. E noi siamo intervenuti in quasi tutti, cominciando dalle periferie, perché molte volte sento questa, è strumentale, mi rendo conto, chi deve criticare deve trovare sempre qualche scusa o inventarsi qualcosa, dicendo che noi facciamo solo le cose in centro. Non è vero, perché poi, quando arriverò alla fine del mio mandato, racconterò tutto dal 2014 ad oggi, e lì sono dati oggettivi, non sono immagini, perché poi magari ci dimentichiamo. Poi ci sono, in alcune zone, maggiori difficoltà, per esempio, perché non c'è una chiesa, perché gli abitanti sono pochi, e ovviamente certe attività non si sostengono. Noi stiamo investendo risorse per quello che riguarda Ponte Sasso, Torrette, anche adesso, ad aprile, fra i vari interventi, faremo un intervento importante nel centro sociale che è a disposizione del quartiere, abbiamo fatto interventi sul lungomare. Ad il waterfront rientra un po' a questo. Adesso il primo strancio sarà Torrette, però mezzo milione per il sottopasso di Ponte Sasso, devono partire i lavori, anche questi sono già stati appaltati, o penso debbano partire adesso alla gara d'appalto. Adesso mi sfugge. Perché questo ce l'ho portato di mano, ma l'elenco è lungo. Vediamo un po' se lo trovo in fretta, perché non sono per argomenti. Intanto io continuo a leggere altri messaggi, se vuole magari guardare con tranquillità. Comunque è già previsto. Abbiamo asfaltato tutto il quartiere. Adesso lì, penso, c'è anche un altro piccolo problema, che però è grande per chi lo vive. Sono alcune messe in sicurezza ai lati della strada principale. Poi c'è il tema di un ulteriore intervento sul rio Crinaccio per attenuare ancora l'emergenza idrica. Fra l'altro è una comunicazione che voglio dare. Abbiamo scritto ad ANAS, perché è uno dei problemi riguardanti alla progettazione, per mitigare i problemi di esondazione, di allagamento, per sollevare l'accesso sotto, che rischia di fare l'effetto imbuto, sotto la statale. Quindi per quello che riguarda lo piccolo spazio, cerchiamo di capire se abbiamo delle proprietà là dove è possibile realizzarlo. In attesa di una telefonata, le chiedono se va avanti il progetto delle Terme di Carignano. Abbiamo letto anche la nota del giorno scorso. Per quello che ci riguarda noi tendiamo un telo rosso, perché noi ci crediamo, però è un investimento privato, non dipende dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale può facilitare, sotto l'aspetto amministrativo, e noi sotto questo aspetto siamo consapevoli del valore che può portare. Al di là delle chiacchiere, poi bisogna che ci siano delle azioni vere della società, che è legata non soltanto all'investimento delle Terme, ma anche quello sanitario. Esatto, e 50 posti letto. E quello noi sappiamo benissimo che è condizionato dalla realizzazione dell'opera. Io ho cercato, ho confesso anche i giorni scorsi, l'amministratore, non mi ha risposto, adesso riproverò anche nei prossimi giorni. Poi ritorno sul tema della sanità, ma abbiamo una persona che vuole parlare con lei. Buonasera. 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 Buonasera Massimo, sono una cittadina di Fano. Allora, le volevo chiedere una cosa. Allora, innanzitutto non guardiamo ora che c'è il carnevale per la pulizia delle strade, no? Io direi di farlo un pochino più frequentemente, ok? Le dico solo che guardiamo via Montegrappa. Sì. Ok? Benissimo. Allora, ci ritroviamo alla mattina, ci ritroviamo alla mattina, che dietro al discorso che ha fatto lei prima del Vittoria Colonna, con i davanzali pieni di bottiglie di vino, bottiglie di vino, di birra, lattine, una cosa indecente. Scusi, su quali davanzali? Quelli dentro di Vittoria Colonna? No, no. Via Montegrappa. Quindi sulla... Non sa dove l'autoscuola Antonioni? Sì, sì, sì. Quindi la prima parte, all'inizio. Benissimo. Non le dico chi sono, ma ci conosciamo molto, ma molto bene. Dalla voce sospetto, chi sia. Benissimo. Bene. La ringrazio molto. Quindi alla mattina ci ritroviamo con di tutto di più un degrado completo. Allora, voglio dire, chiedo solo, non so se devo fare una domanda in carta bollata al Comune, le dico, vogliamo mettere anche qualche cestino, perché, allora, le dico questo, un mese fa il signore dal cappellino rosso, una persona squisita, ha dipinto anche in paletti dove voi avete messo le telecamere per il carnevale. Mettiamo qualche cestino, che diamo un buon esempio anche ai ragazzi che escono dalla scuola, al posto di buttare le carte, le lattile per terra, di cercare di metterle dentro i cestini. Paghiamo anche una tazza dei rifiuti, non indifferente. Abbiamo capito il senso. Quindi il problema di degrado, ed è necessario intervenire in quella via, in questo caso deve intervenire ASET per i cestini di rifiuti? La raccolta dei rifiuti è il compito di ASET. Adesso, non se ne è, cerchiamo di capire, faccio fare anche dei sopralluoghi per capire la situazione, perché onestamente io a quell'ora non passo lì, non mi rendo conto. Magari sono di queste mattine, prima di arrivare in ufficio, ci passo e così lo vedo anche con i miei occhi. L'oculi del cimitero di Rosciano, quando verranno realizzati? Stanno in una programmazione, adesso abbiamo messo alcuni finanziamenti, ma il problema non è solo Rosciano, ce l'abbiamo afferretto, dobbiamo fare degli interventi nel cimitero centrale, perché ci sono delle situazioni, non dico di pericolo, però, che vanno risolte. Abbiamo stanziato 500 mila euro, ma ne dovremmo stanziare anche delle altre, ne abbiamo ragionato, adesso con il nuovo bilancio vediamo di prevederne. Dopo l'incontro di venerdì 20 gennaio, a Torrette sulla Complanare, noi di Fano Sud ci domandiamo, vi siete già visti come sindaci di Fano, San Costanzo e Mondolfo, sul percorso da condividere? Se non l'avete ancora fatto, a quando l'incontro per definire il tracciato? Non l'abbiamo fatto, anzi, è fatto bene a rimetterlo in mente, cercherò di programmarlo, però non riesco prima di primi di marzo. Sulle frane di Ferretto invece ci sono notizie, sindaco? Adesso abbiamo finanziato le frane, frane di Carignano, mezzo milione, su queste non c'è attualmente un finanziamento, ma sono delle liste delle priorità. Fate i parcheggi agli orti prima di toglierli in centro, in Sassonia, non dopo? Avete già pensato dove spostare? Noi una pianificazione ce l'abbiamo in testa, ma ovviamente non è che queste cose si realizzano in poco tempo. Possiamo far vedere anche le immagini in Viare Dante Alighieri, dove c'è una nuova sperimentazione per vista della pista ciclabile, quindi anche da lì vengono tolti diversi parcheggi. Alcuni parcheggi vengono tolti, però tanto qui è inutile che ci giriamo intorno. Ci sono delle situazioni che non possono continuare. lì c'è un'intensità di traffico, fortunatamente non è accaduto nulla, abbiamo avuto anche incontri in prefettura, o si fa un divieto di transito di determinati mezzi, ed è impossibile, o si allarga lo spazio a disposizione per i pedoni e per i mezzi. E quindi tenere tutte le macchie parcheggiate in questo modo, come erano fino a poco tempo fa, in ambo i lati, avete visto, poi dipende da chi alza la mattina il polverone della polemica. Una volta è rimasto incastrato un camion, non se ne è parlato per settimane, lì ci sono anche delle attività portuali che purtroppo, o per fortuna, perché poi per chi lavora è una fortuna, per chi subisce il disagio è un purtroppo, creano delle condizioni che hanno appesantito la viabilità là. Siamo vicino al mare, ed è impensabile che non ci sia la possibilità delle persone che possono transitare in bicicletta o a piedi, o con le passi pesate d'estate, una mamma o un babbo, perché poi il passeggino lo possono spingere anche i genitori, non c'è proprio la condizione ottimale. Quindi adesso stiamo facendo questa sperimentazione, però non possiamo tornare indietro per una questione di sicurezza. Ripeto, abbiamo avuto anche incontri proprio dedicati alla sicurezza, in prefettura, dove ci siamo dovuti prendere anche degli impegni che vanno in questa direzione. Ecco, bisogna però adesso capire dove collocare... Sì, adesso noi facciamo una pianificazione anche con il piano regolatore, ci sono delle aree che possono essere destinate, possiamo fare un ragionamento anche per la prossima estate, modificando alcune cose rispetto all'estate precedente, insomma alcuni accorgimenti ci sono, adesso vediamo intanto l'effetto della sperimentazione. però, ripeto, questa è la strada maestra che manterremo. Vorrei chiedere un chiarimento sulla polemica del progetto del convento dei frati a Montegiove. Ecco, in questo caso la sovrintendenza ha già dato l'ok, abbiamo visto anche gli ambientalisti che lanciano un appello al Papa per fermare, insomma. Tutti i pareri sono favorevoli, quindi loro lo realizzeranno, dopo come tutti gli interventi, come tutte le cose, c'è chi è a favore e chi è contrario. Nel mondo non c'è una cosa dove sono tutti contenti, purtroppo è così, se sono rivolto al Papa, io sui frati non ho competenza, sarà il Santo Padre se vorrà intervenire, e sua volontà, io su questo non interferisco. Il signor Falcioni chiede un nuovo intervento per via Gentile da Fano, sia per la velocità delle macchine che per il semaforo. Invece ci dicono, questo l'abbiamo letto, tre mesi che segnalano lo stato di fatto di via Bassi e 36 durante la pioggia, però non possiamo in diretta far vedere quell'immagine. Buonasera asfaltature, via Le Ruggeri e via Limitrofe, sulle vie, Sindaco, ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Ci sono tutti quelli che non abbiamo ancora asfaltato, è normale, e non riusciremo a farle tutte quante, per cui alcuni rimarranno scontenti inevitabilmente, altri saranno contenti. Sindaco, lei ha ragione sul tema della città capoluogo, perché non propone una unione con Pesaro o diventeremo la prima realtà delle marche con tutte le ricadute positive? Sarebbe la cosa più intelligente, ma non c'è la maturità, purtroppo non c'è la maturità delle due comunità per arrivare a una cosa del genere. Ma sono convinto anch'io che l'intelligenza è quella di ragionare insieme. Ragionare insieme, però, va fatto, ripeto, lo sottolineo, con intelligenza da ambe le parti, perché le programmazioni e le distribuzioni anche delle ricchezze e delle opportunità vanno suddivise, non solo concentrate in una sola parte. Però ragionare come città metropolitana penso sia la cosa più intelligente che noi possiamo fare. Però ancora, alcune volte ci casco anch'io, il campanilismo è ancora la bandiera su cui ci aggrappiamo sempre tutti. A proposito di Pesaro, oggi il sindaco è intervenuto in Consiglio Comunale per discutere un ordine del giorno che riguardava l'ospedale di Moraglia e ha dichiarato la sanità è ulteriormente peggiorata così come la mobilità passiva e la situazione del pronto soccorso. Dopo due anni e mezzo di governo di destra la regione non può continuare a dare la colpa a chi c'era prima. Anche lei è d'accordo con il sindaco di Pesaro? È un peggioramento? Guardi, io non voglio fare polemiche, va detto la verità che qui si alzi, scagli la prima pietra che è senza peccato. Io sono di centro-sinistra, però l'onestà intellettuale e politica va anche riconosciuto quando non si è stati capaci di fare delle cose. In tanti anni non si è arrivata alla conclusione di un progetto. Poi ci è arrivata una visione nuova, diversa e l'ha modificata, può piacerci o non piacerci. Poi io sulla sanità ho avuto anche tanti conflitti perché troppe volte la nostra realtà Fano, proprio anche per il fatto che è una città un po' più piccola, di abitanti non di dimensione. Anche se sulla sanità bisogna tener conto del riferimento del comprensorio e quello di Fano con il suo introterra è più grande come numero di abitanti rispetto a quello pesarese. Però è anche vero sotto gli occhi di tutti che la sanità in questo momento sta soffrendo molto certe criticità non sono migliorate se non peggiorate. C'è la necessità di fare degli interventi importanti e nell'ottica di una nuova visione di sanità che vede il mantenimento delle due strutture va fatto in modo che sia conseguente alle parole con numeri e fatti e risorse e posti che vanno, in questo caso, Paolo di Fano che deve recuperarli. È chiaro che non si può non fare un ragionamento Fano-Pesaro insieme guardando ovviamente l'entroterra per il servizio sanitario. Non possiamo permetterci una serie di doppioni fra le due realtà perché rischeremo di abbassare il livello del servizio. Non nascondo che comunque sono molto preoccupato anch'io per la situazione sanitaria del nostro territorio. Via Flaminia all'altezza del negozio di ceramiche le strisce non si vedono più e c'è anche l'alta velocità. Altra domanda per lei come abbiamo fatto a farci sfuggire alla Nazionale Italiana Cantanti? Sindaco, che cosa è successo? Ma cosa significa che si è fatti sfuggire? Perché cercavano leggevo, no? No, intanto qui c'è una strumentalità e c'è una provocazione che io respingo al mittente perché chi parla deve venire a parlare anche con me. Allora, io ho fatto un ottimo lavoro di relazioni avevamo stipulato anche un protocollo poi ci siamo fatti dei ragionamenti anche con qualcuno che ha parlato magari con quella persona che si era resa disponibile a fare anche determinati interventi che poi sono spariti perché sono tutti bravi a fare le cose con i soldi degli altri. E lì occorrono 3-4 milioni per fare questo intervento io ho sempre detto che non li avevamo come nostra capacità diretta con le risorse dirette dell'amministrazione avevo fatto tessuto una rete di sensibilità di copartecipazioni tra cui probabilmente anche quella che ha un suggerito soffiato nell'orecchio di questa persona che ha aperto questa polemica magari sono proprio quelli che non si sono mai fatti vedere quando avevamo aperto un ragionamento. io stesso ero andato a Milano proprio a presentare quell'idea. Poi nel frattempo ci saranno anche altre ipotesi ma siccome non è che parliamo di 100 mila euro parliamo di un intervento su quella struttura di diversi milioni che ovviamente ripeto non può mettere perché non li ha come risorse proprio per l'amministrazione comunale quindi quello che hanno detto si sono fatti sfuggire forse sono quelli fuggiti poi magari ne riparleremo adesso non è il caso in questa circostanza però a chi ha fatto quella provocazione dietro ci sono altre ragioni che ovviamente non sto a elencare perché quando si muove una critica ci sono le cose che non si possono dire che sono vere a cui si fa riferimento e poi si prendono quelle che magari non sono l'obiettivo vero del contendere tra i soggetti per cercare però di far capire anche i nostri telespettatori Fratelli d'Italia che ha inviato una nota che vende non è la sigla sono le persone sì però insomma almeno per far capire a caso il partito sono residente nella zona tombaccia dove c'è un campetto senza una porta da calcetto da diversi mesi in più è cascato anche un albero e quindi ha provocato ulteriori danni è possibile sapere la data di comunicazione alla città dell'esito premio fortuna d'oro? lo faremo ci sarà la comunicazione si deve riunire la commissione per attribuire le due annualità ne parlavamo più i giorni scorsi con la Presidente del Consiglio Comunale penso che abbiamo già convocato una data per la commissione i primi di marzo adesso non ricordo la data precisa quindi nel mese di marzo avverrà anche questo momento torniamo un attimo a parlare dell'incendio perché l'assessore Cora Fattori ci ha fatto sapere che ancora non sono arrivati i risultati abbiamo le misurazioni presso le nostre centraline ci ha riferito che non davano problemi quindi erano però sopravento questo va detto e precisato le misurazioni di ARPAM non sono arrivate le aspettavamo per oggi ovviamente domani sollecitiamo quindi grazie ringrazio l'assessore per essere intervenuto quindi a supporto del sindaco nell'informazione alla cittadinanza comunque come immaginavo come ho detto si sta sul pezzo perché giusto così poi quando si parla di ambienti di tutela della salute non può essere altrimenti come ha detto l'assessore appena avrà le informazioni le renderà anche pubbliche quando aprirà il tratto di ciclabile dell'Arzilla penso prima dell'estate dovevano riprendere i lavori adesso a primavera ma è rimasto poco lavoro da fare torno su allora 30 giorni fa ho scritto una mail al mio sindaco e al mio assessore competente per i passeggi una mail con documentazione fotografica una mail di tono pacato e collaborativo 30 giorni sono tanti per me che lavoro in un altro settore di solito rispondo entro 1-2 ore all'email capisco che hanno tanti impegni ma sarebbe educazione un cenno di riscontro Francesco Sabatinelli non so in questo caso che cosa comunque adesso me lo segno anche perché si è consentito concordo con il signore che bisogna rispondere io cerco di rispondere a tutti poi non so dove lavora le persone sono tante quando arrivano centinaia e centinaia di lettere non è che abbiamo 10 persone che stanno a rispondere non è semplicissimo magari può essere anche sfuggita io adesso domattina come rientro faccio subito la verifica mi ha detto il nome Sabatinelli poi dopo me lo ridice fuori onda sui passeggi se non sbaglio allora torniamo qua Francesco Sabatinelli sui passeggi le chiedono poi siamo quasi in chiusura dopo Cristiana magari prendiamo anche le immagini relative a a turbanti volevo chiedere al sindaco come mai non si parla più dell'esippo che cosa è successo non ci sono novità in merito beh non è successo niente come non è successo niente negli altri anni rimaniamo fermi ciclicamente se ne torna a parlare però anche qui adesso al di là quando poi si arriva a 18 anni di responsabilità dal sindaco uno vuole più fare le chiacchiere vuole la sostanza sul tema dell'esippo la giustizia ha dato ragione all'Italia non a Fano all'Italia grazie all'impegno di Fanese a cominciare dal professor Alberto Berardi che se non era per lui noi non saremmo qua a parlare di l'esippo poi parliamo del Ghetti Museo parliamo di uno stato che si chiama USA gli Stati Uniti quindi significa relazioni governative tra paesi insomma la situazione è complicata noi cerchiamo di tenere alta l'attenzione cerchiamo di stimolare ogni tanto passa un ministro tutti dicono di impegnarsi quello che ci ha lasciato non ha fatto assolutamente nulla Bonasoli devo dire che si era impegnato aveva preso una direzione determinata poi il suo successore a parole ma fra l'altro non mi ha mai gli ho scritto tante volte ho chiesto anche di incontrarlo si è sempre negato bisogna dire le cose come stanno era quello più vicino anche alla mia idea politica quindi adesso c'è stata una presa di posizione del sottosegretario sgarbi recentemente con il quale mi sono anche sentito e mi ero ripromesso anche di andarlo a trovare per capire se provavano a aprire un atteggiamento determinato nel dialogo con gli Stati Uniti per riavere l'ISIPO noi comunque detto questo cerchiamo di non farci trovare impreparati quindi se dovesse arrivare mi sono convinto che prima o poi arriverà nella nostra città in Italia spero nella nostra città noi siamo pronti per averlo subito e in prospettiva Allora cerco di riassumere brevemente un po' di messaggi intanto per via gentile da Fano chiedono appunto questi dissuasori ma è difficile darvi una risposta non possono dirvi subito sì domani li facciamo quando prendono una segnalazione dovrà essere valutata ci deve essere un sopralluogo e poi persone che ci lavorano una decisione sarebbe opportuno prevedere due attraversamenti pedonali in corrispondenza degli ingressi a Residence San Martino in via 4 novembre richiesti anche per iscritto quindi davanti a Residence San Martino ancora quando interverete sulla strada che porta camminate quando si pulirà la scinta muraria lungo la ferrovia tutti interventi importanti stesso discorso per i marciapiedi in via Filzi a Lido lì avevamo intervistato lo stesso dei residenti lì credo che non ci sia un progetto in corso beh lì intanto adesso devono partire i lavori dei sottopassi perché mi sentono parlarne spesso quello è un altro lavoro importante di 4 milioni e mezzo verrà rifatto di sottopasso di Viale Cairoli i lavori dovrebbero partire intorno ad aprile sia Viale Cairoli sia Viale Nazario Sauro con la consegna del sottopasso di Viale Cairoli nuovo completamente nuovo entro marzo 2024 mentre Viale Nazario Sauro entro dicembre 2024 quindi non sarò io a inaugurarlo ma sarò molto contento quando lo farà chi verrà dopo di me perché sarà un'opera molto utile per la città e per anche lo renderà anche più piacevole e valorizzerà quella quella zona Dunque vorrei segnalare Lampione spento ormai da mesi oltre all'incuria nello stradino di fianco al comune per la Pantrac le fanno i complimenti però chiedono anche quando finiranno i lavori Allora mi sfugge Lampione vicino al comune dove? Non c'è scritto Ah no si riferiva al lavoro della Pantrac No sono due messaggi diversi Lui Lampione spento ormai da mesi nello stradino di fianco al comune secondo me quello che fiancheggia o l'ex San Francesco Si tombiamo la testiana immagino E l'altro sulla Sì la Pantrac e la gara è giudicata nei prossimi giorni verrà sottoscritto il contratto con la ditta e affidato i lavori che dovranno partire ad aprile Non riusciamo a leggere i tutti io vorrei chiudere facendo vedere le foto che sono state scattate ieri si torna a parlare di Fano Grosseto ha accolto ecco lo vediamo qua il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti che ha partecipato alla seconda sfilata del carnevale di Fano una collaborazione sindaco che è iniziata nel 2021 anche con un accordo Sì e intanto nasce dalla Fano Grosseto dalla grande incompiuta che non ha visto ancora la sua ultimazione io un aneddoto conservo una fotocopia del telegramma dell'allora penso sia 1967 se non sbaglio dell'allora ministro dei lavori pubblici Giacomo Mancini che scriveva un telegramma all'allora vice sindaco di Pesaro per comunicargli che avevano finanziato in quel consiglio dei ministri il finanziamento per la Fano Grosseto non usavo la parola Fano Grosseto ma le iniziali delle strade siamo ad oggi ancora non è stata ultimata detto questo proprio partendo da questa ragione abbiamo stipulato questo protocollo dove ci impegniamo entrambi a sensibilizzare e a fare attività iniziative affinché si possa tenere sempre l'attenzione alta e finché si possa arrivare in tempi ragionevoli alla conclusione di questa infrastruttura da quel impegno da quelle iniziative che abbiamo fatto siamo andati avanti con un accordo di collaborazione già stipulato approvato dalle due rispettive giunte ma non formalizzata con un atto anche un momento di sottoscrizione che riguarda una collaborazione su più fronti da quello culturale a quello di promozione essendo noi rappresentanti di due mari quello adriatico e quello del tirreno sono scattute alcune idee rapporti anche tra gli aeroporti sono tutte quelle scambio di best pratik e tra le idee su cui è maturata l'idea di impegnarsi anche quella di una ciclabile dei due mari adesso infatti dobbiamo prendere contatti anche con le associazioni a cominciare dalla FIA che ha dei progetti in tal senso proprio per dare valore e domenica è avvenuto una delegazione al nostro carnevale sono rimasti molto contenti colpiti la prima volta che partecipavano la prima volta e devo dire tra colleghi adesso c'è anche un occhio clinico come andiamo nelle città guardiamo anche i particolari e hanno espresso anche parole di apprezzamento anche per come è gestita la città devo dire che ieri al carnevale non c'era solo Grosseto c'era anche Viterbo con Navis e anche lì c'erano amministratori che hanno espresso anche loro e non penso per piageria ma lo abbiano riscontrato realmente perché noi ovviamente giustamente non ci accontentiamo mai guardiamo sempre le cose che non vanno però è una città ben tenuta insomma se ci guardiamo intorno non si vive così male a Fano insomma lasciatemelo dire io sono d'accordo con lei ma anche leggevo oggi in realtà qualche messaggio di persone che criticavano le buche anche proprio per arrivare a carriera sono andato ad Ancona recentemente davanti all'ospedale per andare giù a Torrette noi una strada così non ce l'abbiamo da noi ce ne sono alcune molto critiche che chiedono degli interventi ma su questo abbiamo fatto un lungo elenco di quelle fatte ma faremo un altro lungo elenco che presenteremo a breve anche di altre strade che asfalterò già da quest'estate velocemente ha proprio 20 secondi perché dobbiamo chiudere le segnalano intanto le canne lungo il canale Albani ci sono arrivati diversi messaggi su questo l'ultimo messaggio come fa a rinascere la caserma Paolini allora su questo ci stiamo lavorando avevamo fatto anche un bel percorso stavamo per stipolare un protocollo poi il MEF per il solito cavillo in questo paese straordinario per trovare cavilli per ostacolare i processi di sviluppo e di rigenerazione delle nostre città ce l'hanno fatto saltare perché avevamo fatto un accordo comune di Fano regione Marche è stato dove c'era un progetto complessivo quello ovviamente non è più possibile perché facciamo delle permute però continuiamo magari lo faremo parzialmente anche i giorni scorsi qualcuno ci avrà visto insieme al Demanio al generale dei Carabinieri a fare dei sopralluoghi perché è nostra intenzione con la regione e con il comune e se lo Stato è disponibile per una piccola per una parte magari non prendiamo anche la parte via Palazzi però l'intenzione è di arrivare entro l'anno a fare questa operazione che voi capite quale importanza ha per la nostra città se riusciamo in questo intento lasciatemi dire è un'altra operazione storica che questa amministrazione riuscirebbe a fare per la nostra città io chiedo scusa alla regia però mi ero segnato una domanda che mi piaceva tantissimo che ha girato un telespettatore spero di ritrovarla vedo il sorriso quindi eccola Sindaco Serri cosa farà da grande una volta terminato il suo mandato? Beh comincia ad essere anche grandino non lo so intanto vorrei finire bene veramente questo mandato perché ci ho messo anima e corpo mi sono dedicato veramente tanta passione poi come tutte le cose commettendo anche i miei errori con le mie incertezze ma penso di aver avuto anche molte intuizioni e molti risultati poi se uno li vuole riconoscere li riconosce ma oggettivamente parlando se si guarda e si vedrà alla fine perché io dico sempre ricordiamoci com'era il 2014 e come sarà nel 2024 intanto vediamo com'è nel 2024 poi faremo un bilancio ma lei cosa farà? ma non lo so io torno a fare il mio lavoro perché ho un lavoro quindi seguivo la gestione il controllo di gestione della provincia e poi è chiaro che se ci fosse qualche opportunità che possa vedermi impegnato potrebbe interessarmi però oggi con questa confusione questa fluidità è difficile fare anche delle previsioni quindi senza ipocrisia veramente non ho pensato ad altre possibili esperienze mi piacerebbe questa è fuori discussione sarei ipocrita se non lo dicessi però sono contento di aver fatto il sindaco per la mia città per dieci anni è un impegno è una soddisfazione è un onore è un impegno perché penso che fare il sindaco sia uno dei mestieri più difficili però umanamente è quello che ti gratifica anche molto perché ti metti sempre in discussione è una sfida continua è un confronto continuo perché se hai un ruolo nazionale regionale sei lontano a livello cittadino ti bussano nel vero senso alla porta di casa quindi esci la gente ti incontra parla poi io sono una persona molto disponibile nel possibile ovviamente per cui posso dire che umanamente è un'esperienza straordinaria difficile che non è per tutti perché non è per tutti bisogna essere armati anche di buona pazienza qualche volta la perdo anch'io anche se cerco di controllarmi però è un atto d'amore per la propria città quindi da grande vediamo quale occasioni ci saranno vediamo il prossimo anno io devo ringraziare per la pazienza in questo caso alla mia regia Riccardo Sore e Cristiana Guerra grazie alle sindaco per essere stato con noi come sempre tra un mese circa la inviteremo nuovamente per rispondere ai tanti messaggi che anche questa sera non sono riuscita a leggere finché ci sono tante domande è anche un bel segnale sia per il servizio che fa Fano TV a cui va un ringraziamento perché non dimentichiamolo questo è un servizio è l'opportunità a tutte quelle persone che non possono venire in comune per poter segnalare le cose per avanzare anche critiche confrontarsi e poi vi devo ringraziare perché quando ci sono le emergenze se non ci fosse Fano TV noi avremmo molte maggiori difficoltà grazie sindaco grazie davvero grazie anche a tutti voi per averci seguito e buona serata a tutti grazie a tutti